This will truly be the golden age of America, that's what we have to know. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. I proclami di Donald Trump, eletto per la seconda volta Presidente degli Stati Uniti, fanno esultare la borsa americana, ma il mondo economico europeo ha molto meno da festeggiare e con esso quello di casa nostra. Nord-Est e Veneto intravedono nuovamente all'orizzonte le politiche di chiusura già imposte da Trump nel primo mandato e in un panorama internazionale ulteriormente complicato da allora visti i conflitti in corso, nuovi vincoli e nuove tassazioni rischiano di pesare doppio. Siamo preoccupati dal fatto che gli Stati Uniti, che sono il terzo partner commerciale dell'Italia, possono avere in Trump, come nel precedente mandato, un presidente che impone dazi e barriere doganali. Questo sicuramente non farà bene alla nostra economia e all'economia dell'Europa. Contro misure è difficile prenderne perché abbiamo una grande potenza che consuma e quindi noi siamo piccoli rispetto a loro. I dazi sicuramente li metteranno di più di qualche prodotto e noi dobbiamo continuare a esportare, trovare nuovi prodotti e ampliare quali sono le nostre offerte. Non abbiamo strumenti per poter combattere contro misure, contro gli Stati Uniti, la trovo assai difficile. Sperimentare nuovi prodotti e mercati alternativi per l'export, dice Pozza. Quello europeo è un mercato esaurito, le nuove piazze sono altre. I mercati alternativi sono gli Emirati, sono comunque l'India, possono essere anche l'Africa con il piano Mattei, ma lo stesso anche i mercati asiatici e il Vietnam. Luca Paolazzi, direttore scientifico di Fondazione Nord-Est, non è dello stesso avviso. È sposta l'attenzione dal tema export, focalizzandosi sullo stato di salute del tessuto produttivo del vecchio continente che deve, dice, riprendere a basarsi innanzitutto sulle proprie forze e i propri consumi. Occorre una politica europea che stimoli la domanda interna, anziché basarci sull'export nei mercati all'estero. Occorre un cambiamento di rotta. Per fortuna la Banca Centrale Europea taglierà ancora i tassi di interesse e questo ci aiuterà.